Vogliamo litigare un po' su Chiara Ferragni? Io ci sono, fatevi sotto! Se pensate che lei sia una biondina, sfoderate il vostro vocabolario e vediamo chi ce l'ha più grosso. Se siete fra quelli che si sentono superiori ai suoi 20 milioni di follower, fatevi sotto, puletri dell'anteguerra! Ho letto di tutto negli ultimi due giorni e le parole di molti non mi sono piaciute. Ho i capelli ritti per la quantità di commenti supponenti e vorrei strapparmi i peli dal petto e soprattutto abbracciare Chiara. Che però non sa nemmeno chi sono, perciò immagino lei non vorrebbe abbracciarmi. Avete scritto Spostati biondina, Ferragni chi? Ho letto cose come se gli uffizi hanno bisogno di lei siamo messi male. Oppure non doveva vestirsi con gli short e la maglietta per presentarsi in un museo. Ma state scherzando? Ce lo volete dire voi? Come si devono vestire le donne per entrare in un luogo pubblico? Dai, raccontateci l'abbigliamento consono. Di fronte a stato è con le chiappe e il birulino fuori. Che poi insegnare alla più influente imprenditrice di moda, secondo la classifica di Forbes. E Forbes non è la sagra della fecattola Scandici. Ecco, insegnare alla più influente imprenditrice di moda l'outfit. Si dice a Firenze, no? Che noi non siamo fini per nulla. Si dice è un po' come voler insegnare al culo a cacare. E ora facciamo un passo indietro. Come diceva il mio maestro Piff. Chiara Ferragni ha realizzato un servizio fotografico per Vogue che aveva come location il Museo degli Uffizi. Al termine del servizio il direttore del museo, Egg Schmidt, l'ha incontrata. Le ha raccontato alcune delle opere e hanno fatto una foto insieme. E il profilo Instagram del Museo degli Uffizi ha pubblicato la foto. Esattamente come è accaduto quando sono stati in visita a Russell Crowe o Richard Ghiar. Di cosa vi scandalizzate? Che Chiara Ferragni sia una donna? Che sia giovane? Ricca? Dionda? Vi scandalizzate per non avere ancora capito il lavoro che fa Chiara Ferragni? Questo fareste bene. Perché il suo lavoro è molto chiaro. E mi dispiace se a qualcuno non è chiara la parola imprenditrice. Tra l'altro, così influente da riuscire a far partire insieme a suo marito Fedez, in piena emergenza Covid, una raccolta per un ospedale. E mettendo loro i primi 100.000 euro. Ma cosa volete da Chiara Ferragni? Davvero riuscite a criticare Chiara Ferragni anche se visita un museo e posta una foto? Ad avercene così, maremma impestata ladra. Che se oggi Sandro Botticelli fosse vivo, prenderebbe lei a modella invece di Simonetta Vespucci. Nata a Cattaneo, nobildonna italiana. Tra le più note del Rinascimento, Simonetta Vespucci, amata da Giuliano De Medici. Che potrebbe benissimo essere Fedez. Cos'è che vi turba in questo paragone? Davvero pensate che Giuliano De Medici avesse più qualità di Fedez? O la Vespucci alias Venere del Botticelli più di Chiara Ferragni? Ma in base a cosa? Smontate la vostra scala di valori e provate a ricostruirla. O altrimenti in guardia. Ancora, sul posto con la foto di Chiara Ferragni il Museo degli Uffizi ha fatto il record di apprezzamenti. Sul posto della Ferragni altri 500 mila, mezzo milione di apprezzamenti. Arrivando così a un pubblico differente, in una forma diversa e anche divertente. Cosa c'è che non va? Niente, anzi, chapeau. E una frase per concludere. Abituarsi alla diversità dei normali è più difficile che abituarsi alla diversità dei diversi.